Sono Nicola Sabatini, direttore di Campus Città Studi, sono qui perché un paio di mesi fa un mio collegiale, Giulio Unfer, è venuto a propormi di sostenere l'equipaggio che stava costituendo per la partecipazione a un'importante manifestazione veristica in Francia, manifestazione che prevede la partecipazione di 180 equipaggi e il suo equipaggio sarebbe stato l'unico italiano. L'idea di andare per mare è molto interessante, a noi interessa, anche se noi facciamo formazione universitaria, quindi noi aiutiamo, accompagniamo i ragazzi a fare un percorso integrativo rispetto a quello che fanno in università, ci interessa l'idea dell'andare per mare perché è proprio l'idea della persona che rischia, che si lancia in mare aperto e noi vogliamo sostenere questo tentativo, proprio perché rischiando, provando, dentro un rapporto che noi viviamo con i ragazzi, il ragazzo possa orientarsi, crescere, maturare, fare esperienza. L'immagine più forte che si può recuperare dalla letteratura rispetto a questa idea dell'andare per mare è sicuramente quella dell'Ulisse Dantesco, quando Ulisse dice ai suoi compagni per convincerli di andare oltre le colonne d'Ercole, fatti non foste a vivere come i bruti, ma per seguire virtute che hanno scelto. Allora per noi è lo stesso, cioè che i ragazzi possano far maturare le loro passioni e crescere in tutte le dimensioni della loro umanità, anche oltre le dimensioni dello studio.